Lorenzo, 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 venne qui, venne qui. Quanta Bermuda Vols? Quanto titolo mondiale? No, guarda, ho perso sei finali. Due non vieni. Stai contento? Primera reazione. Parla l'italiano. Adesso sono troppo nervoso. Non posso ancora godere del momento, guarda, devo aspettare. Fu un torneo relajato, no? E' andato tutto bene, però siamo stati forti, diciamo che abbiamo meritato. Bueno, muchas gracias.